Settiamo Mi sembra giusto che in un lights out match Di prendere se lo trovo Mi sa che l'ho già superato John Moxley E di andare a contro Kenny Omega Che è stato il primo lights out match Della compagnia Molto probabile mi sbaglio Selezioniamo l'arena Cacchio non mi ricordo dove l'avevano fatto Mi sa Revolution Non ho visto come si prendono gli oggetti Paraparapero 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 Son contento che non hanno messo l'altra canzone Se no erano cazzi Nessuno Chicca fuori Dalla One Wing Denzel Ci sono anche le tizie dietro Che ballano E la Madonna Grazie mille Mi insegna le robe Allora Pugno calzi Ok Ah con RT Bono E che dolore Ok Vecchio Tocco vecchio stile Eh Stru Bello No Ok LT per uscire No How I How I grab Benissimo Che Madonna Ma la Madonna Sui side Bastacco Cida dietro We want a ball A pezzo Le schifo No Eh va bene Ok Per le mosse è LP E per i pugni è RB Per parare Che roba E che dolore Ti prego John Non sanguinare ancora Signor Kenny Ha già rotto le balle Prendi il tavolo You take the tabella No Prendi te Lo prendo io No Lancia Me l'ha fregata Vabbè Piglia qualcosa Porta dentro Buondissimo Come faccio a dargli fuoco Lo so Che si può dare fuoco Al tavolo Dai vabbè Ma te sei un pirla In quell'arma lì Non mi piace Mi sa che ci sono Troppi oggetti Sul ring In giro E non ne posso prendere Altri diversa Ok Sto infortunando A brazzo Lo giro No Ti volevo fare Ergerman Suplers Buonissimo Sariamo sul palettum Clutes Lo vaffanbagno No Sì Le puntine Di dio Non so se erano Sling blade O quel cazzo Che è Ahia Ahia Ma mi ha blocchito Dov'è stare Ergerman Suplers Non ho il cazzo Che faccio schienamento Signor Regal Allora Le andiamo a mettere qua Voilà Va che bello Ahia No Dolore atomico Dolore far No Bastardo No Sulle puntine No E che male Eh sì E la madonna No 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 I am in danger Mi ha fatto la V-trigger No Ecco le puntine Che devo fare Smasho Eh la madonna Ma ho smasciato Che potevo E mi ha dissuto lo stesso Perché nessuno Kicca fuori Dalla One win win One win win Il pulitore Cagno me Ha vinto Il primo incontro Che cacchio di un D Siamo Ma Madonna Però Però Rimatch Subite Porco demonio Give me the hammer Ah Irish whip Black hole slam Ah madonna Alzati Come faccio Tirarlo su Alza lui Aia Aia Le vomitate Non vanno bene Aio Uè Uè Giovine Basta Coste chop Voglio vedere Una roba Ok Ci sono anche Le mosse Dall'Hung E dagli il calzone Quello Two sixteen Elbow Spaceball Bat Non ho detto In mezzo alle balle Che fai Puoi andare a prendere le cose Ho vinto Mamma mia John Boxley Si è preso immediatamente La Rivincita E mi sembra giusto Che la rivincita Non ci sarà ancora Con un Lights Out match No Ma nel prossimo incontro Ci sarà un exploding Barbed by Wire match Questo è stato Il primo sneak peek Poi ci saranno Anche la modalità carriera Con il Road to Elite E tanti altri incontri Soprattutto anche Roma Online Ci sono leak Che forse Potrebbe uscire Anche un Battle Royale Noi ci vediamo La prossima Con grandi E nuovi incontri Scrivetemi nei commenti Quali incontri Deppa fare